Bella a tutti i forniters, benvenuti sull'eontube, eccoci qui in questo video per andare a fare l'ultima fase degli incarichi pesce balestra ricevi altre istruzioni da pesce balestra, pesce balestra lo vediamo è qua in questa parte della mappa, tutto a ovest, è bello segnalato già nella mappa e quindi noi andiamo a parlarci e vediamo cosa ha da dirci, vediamo un po' eccolo qua, noi ci parliamo mi hai colpito, acciughina, non pensavo che avessi la stoffa perfetto, la missione ok, continuiamo ho una missione per te, i compagni dei coralli sono scomparsi, è qualcosa puzza, come pesce di tre giorni ho bisogno del tuo aiuto per indagare, l'isola è grande e i compagni dei coralli sono davvero tanto piccoli la principessa corallina mi ha chiesto di ritrovare i compagni dei coralli, potrebbe avere un'idea ok, di dove si trovano e ora dobbiamo andare a parlare con corallina che è dov'è corallina quindi della località costiera del corallo raro allora qui l'avversario è stato eliminato ok, quindi la missione non è terminata solo in questo modo tanto andiamo ad armarci perfetto ok, allora perfetto, ci sono nuove, quindi nuovi incarichi parla con corallina ah, che è tutta qua giunta a quest'altra parte perfetto, allora questo video termina qui se vi è piaciuto, che è stato d'aiuto il resto è un video molto semplice comunque un bel mi piace, è sempre gradito condividetelo nei vostri social non dimenticate di lasciare un commento fa sempre molto piacere e invitiamo a iscrivervi al nostro canale non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti ciao a tutti non dimenticate di cliccare la campanella 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 non dimenticate di cliccare la campanella